Un effetto collaterale, ma ugualmente in fausto, legato alla pandemia di Covid-19, ha travolto la piccola economia in rapporto ai numeri, in senso assoluto, di Cipro. A causa del blocco globale, gli isolani depositi uno stock di 6.000 tonnellate di allumi, il formaggio salato tradizionale rimasto invenduto per il crollo della domanda interna e internazionale. Il governo cipriota sta mobilitando le sue ambasciate all'estero per aiutare i produttori a vendere le loro scorte di allumi, che in tempi normali rappresenta il prodotto d'esportazione più importante e conosciuto dell'isola. Fatto con latte di capra e pecora, l'allumi è stato inserito dall'Unione Europea in aprile nel registro delle denominazioni di origine protetta. La Gran Bretagna, il mercato più grande, assorbe circa il 50% delle esportazioni di formaggio davanti alla Svezia.